La felicità per il premio ricevuto per la passata stagione? L'orgoglio è di riceverla proprio dai propri colleghi, i calciatori, i allenatori. Comunque questo è l'orgoglio di tutti i giocatori che stavano oggi sul palco. E questo ti può aiutare anche in questo momento che è un po' meno brillante rispetto al passato? Di che cosa? Il mio o della squadra? Tu o della squadra? Di tutti, ma non lo so, per me non cambia niente.